Nel breve video vedremo ad andare con una soluzione per poter vedere le storie di instagram dal vostro pc senza necessità di essere logati con il proprio propino instagram. Non so ancora per quanto funzionerà questa possibilità, probabilmente è possibile scaricare le storie di instagram. Quindi quello che dovete fare è semplicemente fare un copia e colla del nome del profilo. Vediamo adesso come fare. Allora ho preso un profilo a caso, quindi come vi ho detto ne posso, è possibile vederle e io non sono locato. Stesso vale per i video, è possibile vederli, ma quello che è possibile fare è vedere le storie. Infatti se clicco su una storia mi chiede di effettuare il login. Quindi come riesco a esaltare il problema basta fare copia e andare su instastories. Fatto questo, come c'è scritto, potete permettere di essere anonimo, può sempre dire le storie, nessuno sa se avete usato la propria storia oppure no. Quindi ho un c'è scritto. Qui vi faccio aggiungere il login. Per esempio, si potete anche vedere le storie. Ed ecco a voi le storie. Quindi potete adesso fare un clic e vedere le storie del profilo. Logicamente vi dà anche i post sul polese, però vi ho mostrato altre soluzioni, questo a prenderla principalmente per i discorsi delle storie, come vedere il polese, oltre a vedere l'elenco, potete anche andare a vedere direttamente le storie più recenti, quindi se premo il mio e quindi lo potete scaricare, questo vale per tutti, potete avviare altre varie storie e via. Spero che questo gli possa tornare utile, ci vediamo al prossimo video, veramente saluto. Grazie.